Oggi mi è stata notificata una mista conclusione delle indagini preliminari, in realtà a me come a tutta la giunta dell'epoca, parliamo di fatti del 2016, mi si contesta effettivamente quella di aver fatto un'ingiusta compensazione di 60.000 euro, cioè uno sconto come si suol dire fatto alle lampare al fortino, ma giusto per fare chiarezza ci tenevo invece a evidenziare alcune cose. Con questa delibera la giunta in realtà ha incassato circa 200.000 euro, che era un credito che era maturato dal 2005 di fatto al 2016, che nessuno prima aveva mai contestato e soprattutto era riuscito mai ad ottenere da questa attività. 191.000 euro che sono stati tutti versati fino all'ultimo euro, credo che l'ultimo versamento peraltro sia di qualche giorno fa, ma questo lo stiamo comunque verificando. Siamo molto sereni, noi assolutamente confidiamo nel lavoro della magistratura, d'altronde sono indagini assolutamente in corso, sapremmo chiarire che evidentemente abbiamo determinato questa somma a fronte di un parere reso dall'ufficio legale e una congruità reso dall'ufficio tecnico che eventualmente qualificano quei lavori non come una normale opera di manutenzione, ma bensì come lavori di completamente rifacimento del tetto e quindi a carico della proprietà. Da qui questo sconto di 60.000 euro solo perché effettivamente gli uffici hanno ritenuto, secondo me anche giustamente, che fossero a carico della proprietà e non a carico invece dell'imprenditore. Siamo sotto questo aspetto anche molto sereni, anche rispetto ad una sentenza che in realtà è intervenuta nelle more e che non riguarda assolutamente questi 60.000 euro perché di fatto non sono mai stati richiesti dal Comune di Trani all'impresa, neanche nel giudizio che si è definito con sentenza, proprio perché da sempre il Comune ha ritenuto sin dal primo giorno che non fossero evidentemente dovuti. Siamo sereni e molto serenamente aspetteremo l'esito delle indagini, soprattutto forte del fatto che siamo riusciti a recuperare circa 200.000 euro e, ripeto, un credito nel frattempo maturato sin dal 2005. Quindi siamo sereni e continuiamo avanti nel nostro lavoro ben confidando nell'attività della magistratura.